E se non ti servisse più pagare una modella per pubblicizzare i tuoi prodotti? Con la tecnica della modella virtuale puoi utilizzare qualsiasi tipo di abbigliamento oppure un oggetto partendo da una semplice foto del prodotto oppure anche da un capo indossato per ottenere dei rendering pazzescamente realistici. Quando ho visto i risultati mi sono stupito per quanto fossero già credibili, usciti solo da Stable Diffusion. E se disponessi di risorse illimitate per le tue location? Niente più pacchi e ritardi tirati da persone inaffidabili? Niente storie perché loro le reginette, alcuni scatti non li vogliono fare? Ma sai quanti pallosi grattacapi ti eviteresti? Aggiungici il fatto che la velocità di esecuzione è al top e se questa tecnica non la impari tu subito da questo corso, la imparerà presto un tuo competitor. Modella virtuale, figa, gratis e puntuale. Puoi utilizzare infiniti modelli per i tuoi articoli. Potrai gestire la posa come preferisci e modificarla quante volte vuoi per ottenere un risultato fotorealistico in maniera semplice e veloce. Presenterai meglio il tuo prodotto che sarà più facile da vendere, te lo assicuro. Il software è pure gratis, che aspetti figa? Iscriviti subito.